Danilo D'Angelo, match winner di Ripalimosani-San Pietro in valle, quella fuga l'hai fatta davvero con tanta cattiveria, bravo perché insomma non era facile realizzare quel gol. Sì, avevo visto che c'era tanto campo libero e ho provato a buttarmi, è stato bravissimo il mio compagno Emanuele a darmi una grande palla di spalle e fortunatamente sono riuscito a metterla dentro. Ecco, può essere questo il gol che certifica, anzi diciamo di sì, questa salvezza che non è ancora matematica però ci siamo. Sì, sono tre punti molto importanti in chiave salvezza, anche se come hai detto tu non è ancora matematica, dobbiamo cercare e provare a vincere anche le prossime per far sì che siamo salvi sicuramente. Grande girone di ritorno lo possiamo dire, vi siete sbloccati mentalmente, da lì si è visto un altro San Pietro. Sì, il girone di ritorno ci siamo sbloccati, abbiamo fatto più gruppo, siamo sempre andati in campo con più cattiveria e soprattutto siamo molto più consapevoli della squadra che siamo. Assolutamente, quindi in questo finale a partire naturalmente dalla sfida interna contro il Castel di Sangro c'è voglia comunque di proseguire su questa strada? Ovviamente sì, proviamo a vincere tutte, speriamo bene, lottiamo sempre 90 minuti e quel che sarà sarà, speriamo in una salvezza matematica già la prossima partita. Un'ultima cosa, davanti in attacco siete molto bravi, siete giocatori molto rapidi, di rimessa, lo hai dimostrato anche tu entrando ma anche i tuoi compagni hanno fatto davvero una grande partita. Sì, sì, siamo una squadra tutti singoli veramente forti, una squadra veramente forte che secondo me meriterebbe anche di stare in posizioni più alte della classifica. E ora si chiude questo obiettivo per stare un po' più sereni questo mese finale perché immagino che ci sono stati tanti sacrifici. Sì, sì, noi siamo partiti appunto all'inizio del giorno di ritorno che eravamo sotto in basso nelle zone basse della classifica e diciamo che ora siamo un po' più sciolti però ancora non è finita.